Se sono solo parole, perché facciamo tanta fatica a cambiarle? Cosa c'è dietro a resistenze tipo, ma dai, saranno mica questi problemi? A me all'alimentare hanno insegnato così, perché devo ora cambiare tutto? E poi quella cosa lì dai, proprio non si può sentire. Per capire meglio cosa c'è dietro a queste resistenze, è stato condotto uno studio dall'Università Cattolica di Milano e sulla base delle evidenze emerse abbiamo creato Words. Cosa significa parlare inclusivo? Un ebook di facile consultazione in cui vengono affruttati diversi argomenti relativi al linguaggio e al modo in cui lo utilizziamo. A partire da quello di genere, approfondendo i titoli professionali di studio al femminile e anche il maschile sovresteso, come può essere eliminato o ridotto. Abbiamo poi un capitolo dedicato alle discriminazioni sulla base dell'età anagrafica, un altro che parla invece di eteronormatività, di orientamenti affettivi sessuali e di identità di genere e poi anche un capitolo dedicato alla disabilità. Tante le voci che si sono unite per produrre questo ebook, Lorenzo Gasparrini, Alessandro Lucchini, Giuliana Marca, Stefania Cavagnoni, Andrea De Benedetti e Francesco Ferrelli, tutte voci esperte che hanno portato i loro contributi. Negli ebook ci sono anche approfondimenti scientifici e studi internazionali che cercano di rendere il dibattito e le motivazioni a favore di un cambiamento del linguaggio sempre più oggettivo e non soggettivo. L'ebook chiude poi con alcuni consigli finali per tenersi in allenamento e anche gestire eventuali errori, che non sono mai un gran problema. Il vero problema è resistere ad un cambiamento che è già in atto.